Buongiorno, ecco così si parte meglio, sì così si parte meglio. Buongiorno, sono le 7.06 di oggi giovedì 11 gennaio. Buongiorno a tutti, come state? Questo è Crystal Radio e questo è Good Morning Milano. Vabbè dai giovedì è già Giove come si dice in questi casi e ci sta che sono un po' frastornato dalla settimana. Settimana impegnativa, oggi puntata pregna e piena di ospiti, di racconti, di cose che ci andremo a raccontare e a parlare, ovviamente sempre raccontando e sempre appunto con il focus sulla nostra città, sulla città di Milano che alle 7.07 è una città in risveglio, si sta alzando, sta andando al lavoro, sta andando all'università, insomma sta cercando di affrontare questa ennesima giornata milanese. Vi ricordo che abbiamo anche un numero di whatsapp a cui potete scriverci 3317853555. Questo è tutto quello che sono le coordinate per entrare in contatto con noi. Fuori temperatura abbastanza frescolina, devo dire, insomma sono abbastanza scese le temperature. Questa notte dovremmo essere andati leggermente sotto zero, le previsioni davano meno uno durante la notte, quindi magari questa mattina dovete grattuggiare via un po', di grattare via un po' di ghiaccio dalle vostre auto, ma insomma è anche questo il gioco di Milano e anche questo partire la mattina con Crystal Radio e Good Morning Milano e quindi buona giornata a tutti e partiamo con la musica. Che te lo dico a fa' Angelina Mango, 7 e 11 minuti qui su Crystal Radio, allora si parte, si parte con prima di tutto ovviamente l'almanacco di oggi, che cosa è successo oggi nel mondo, ma oggi sono duemila santi ci sono, cioè di tutto di più, non ne conosco uno però, perché santi Gino non conosco, ah i Gino, no i Gino, i Gino Massari, si chiama Gino giusto? Sì, quindi è il suo domastico oggi, però adaltro non conosco nessuno, no niente, San Teodosio, San Salvio, ah David, San David, David Parenzo, ok auguri, a David Parenzo, c'è anche Santa Luminosa, oggi è Santa Luminosa, pensa c'è qualcuno che si chiama Luminosa nel mondo, però è un bel nome, se conoscete qualcuno che si chiama Luminosa ditemelo perché è davvero interessante, 3317853555. Che cosa, che cosa succede oggi però? Allora oggi è nata Mary J. Blige, non so se la conoscete, è cantante solo R&B, insomma molto molto famosa, 50 milioni di dischi venduti nel mondo, 9 Grammy Awards, insomma non l'ultima che è arrivata, anzi è arrivata nel 71 appunto, 53 anni, auguri a Mary J. Blige e invece oggi c'è anche da ricordare uno scomparso celebre e importante della musica italiana, sto parlando di Fabrizio, Fabrizio De Andrè nel 1999, 25 anni fa, ci lasciava appunto Fabrizio De Andrè, non ho trovato ma credo, adesso poi cercherò meglio sulla rete, di solito l'11 gennaio viene fatta in piazza da Duomo una cantata con chitarra di canzoni di De Andrè, tutti gli anni di solito viene fatta, non so se anche quest'anno verrà fatta, date un'occhiata perché è molto interessante, molto bello, tanti nostri amici ci vanno spesso e quindi vedo poi delle belle storie, dei bei racconti ogni 11 di gennaio, quindi insomma vediamo questa sera se in Duomo ci sarà la schitarrata in onore di Faber, appunto viene sempre chiamata così, viene chiamata la cantata anarchica, cantata anarchica in piazza del Duomo, non ho trovato al momento notizie su questa sera proprio in particolare però insomma ci sarà, cercate sulla rete che sicuramente qualcosa verrà fuori, le notizie di oggi sono veramente tante, poi avremo anche dei collegamenti telefonici, ma quello che ho notato dal Corriere della Sera di questa di ieri, di oggi, cioè sono notizie che avrete visto e sta girando anche su Instagram, i super tornelli sono stati battuti, eh sì, eh sì, eh sì, super tornello, leggiamo da Corriere Milano, Milano, i furbetti battono il super tornello di San Donato, ecco come si entra ancora in metro senza pagare, soprattutto perché si è visto che, ma era anche ovvio pensarlo, il famoso sensore che dovrebbe scattare nel momento in cui passano due persone, comunque non chiude ovviamente il tornello, anche perché sennò sono con la valigia, con i passeggini, con un bambino come farebbe a passare, ecco, infatti ci sono vari video che girano sui social che fanno vedere come si può tranquillamente passare in due da questi super tornelli e quindi le polemiche ancora dietro, ancora a parlare, come se non ci fosse niente di più interessante ed importante, insomma, ancora a parlare di questi super tornelli di San Donato, questi verdi e rossi che sembrano veramente dei semafori da Formula 1 in cui bisogna passare dentro per andare a prendersi la propria metropolitana. Sta di fatto che appunto i furbetti battono il super tornello di San Donato milanese. Foo Fighters The Glass, sempre qui Good Morning Milano, ben ritrovati, stavamo parlando appunto di Fabrizio D'Andrè, no? È l'11 di gennaio, ricorrono i 25 anni dalla scomparsa di Faber, del cantante, del cantautore, del poeta Fabrizio D'Andrè e appunto anche questa sera, come tutti gli 11 gennaio da qualche anno a questa parte, c'è la cantata anarchica in Piazza Duomo per Fabrizio D'Andrè. Ha trovato appunto adesso l'evento e dalle ore 20 in poi chiunque ha una chitarra può portarla e aggregarsi ai suonatori che suoneranno appunto e intoneranno le canzoni di D'Andrè. Bello che nel comunicato che ci sono trovato su Facebook c'è scritto anche importantissimo, ricordate di portare anche dei sacchetti della spazzatura e di buttare e recuperare le bottiglie, lattine o altro che porterete con voi, non abbandonatele in giro per la piazza. Ecco anche un po' di insomma sali in zucca per fare una bella manifestazione che tutti gli anni è qualcosa di molto emozionante, quest'anno poi 25 anni quindi ancora forse più sentita da molti. Interessante come nello stesso momento appunto la Piazza Duomo si suona e si cantano le canzoni di D'Andrè. In Piazza San Fedele la mazzurca clandestina invece organizza la ballata per D'Andrè, quindi sulle note di D'Andrè potete andare a ballare e volteggiare nella bellissima cornice di Piazza San Fedele. La cantata anarchica viene fatta anche in tantissime altre città d'Italia, ve ne dico alcune, Bari, Bologna, Catania, Ferrara, Firenze, Napoli, Palermo, Roma, Siena, Torino, Verona, Venezia, insomma tutto allo stivale unito nel ricordo di Fabrizio D'Andrè. Ma questa sera, sono 25 anni quindi anche le istituzioni un po' più alte se lo ricordano, no? E anche appunto il Teatro Carcano. Questa sera al Carcano dalle ore 21 D'Andrè la storia appunto a 25 anni dalla scomparsa, uno spettacolo che ripercorre tutta la carriera dell'artista con la regia di Emiliano Caligani, voci, musiche, chitarre, c'è una band pazzesca con tantissimi elementi che risuoneranno e racconteranno appunto la storia e lo spettacolo appunto che promuove la conoscenza del pensiero dell'opera e della vita di Fabrizio D'Andrè, come diciamo appunto scomparso l'11 di gennaio del 1999. La cantata clandestina, vi ricordo invece, è in, scusate, la cantata anarchica in Piazza del Duomo, Piazza del Duomo dalle ore 20 in poi. Quindi potete andare lì tranquillamente, portatevi, ripeto, se avete una chitarra, se sapete suonare, portateva perché è davvero bello, suonare tutti insieme, cantare tutti insieme sulle note di Fabrizio D'Andrè. Quindi questa sera dalle ore 20 potete tranquillamente ricarvi appunto in Piazza del Duomo e cantare le canzoni di D'Andrè. Vi ricordo poi anche, appunto, lo spettacolo invece al Teatro Carcano D'Andrè la storia. Ci sono ancora biglietti disponibili? Mi sembra di sì, ok, li potete comprare dal sito del Carcano. Prezzi a partire da 36 euro. Secondo me ci sta, insomma, una bella esperienza e poi ricordiamo sempre, oggi poi anche giovedì parleremo di teatro dopo con Tamara Malleo e quindi, insomma, non possiamo che darvi questa indicazione di andate a teatro. Anche questa sera alle ore 21, sì, alle ore 21 appunto, al Teatro Carcano per ricordare la storia, le opere e il grande, grande impatto anche che ha avuto sulla società, che ha avuto le canzoni, le canzoni e i testi di Fabrizio D'Andrè. Andiamo avanti con la musica anche noi, andiamo avanti invece con un pezzo di un nuovo, un nuovo pezzo di un gruppo importantissimo e storico. Loro sono i Depeche Mode con My Favorite Stranger. I Depeche Mode con My Favorite Stranger. Alle 7 e 26 minuti, fra poco andiamo in pausa, ma prima devo leggere i vostri whatsapp, perché al 33178-53555 questa mattina siete scatenati. Buongiorno a Marilena che ci scrive, buongiorno Fabio, stamattina sveglia presto per accompagnare un'amica al San Raffaele e non pensavo tutte queste macchine alle 6 del mattino. Buona giornata a te, buona giornata anche a te. Abbiamo sentito prima che infatti anche Luce Verde ha detto che il traffico era già molto in intensificazione, diciamo, insomma, si stava svegliando anche il traffico. Ebbene sì, ci svegliamo noi, noi siamo il traffico. Potrebbe fare un nuovo film, dopo cos'era, io sono leggenda, io sono il traffico, una cosa del genere, insieme a girare nella città, lo giriamo tutti in circolvallazione, io sono il traffico, da un'idea di Fabio Ranfi. E poi ci scrive anche Alberto, anche Alberto ci scrive, buongiorno e buon giovedì a Fabio e a tutti i cristallini in ascolto. Grazie mille, giovedì che è iniziato con il mettere fuori la pattumiera qui da noi, perché sì, il giovedì passano a ritirare l'indifferenziato e il vetro, se non sbaglio, quindi ho dovuto portare fuori, il vetro era vuoto, non l'ho portato fuori, ma l'indifferenziato c'erano un paio di sacchi da mettere fuori, visto che sono il primo che si sveglia nel palazzo, ho messo fuori il sacco, a me si dà una mano sempre, in realtà poi, cioè, pensate che io sono il primo che si sveglia nel palazzo, ma c'è qualcuno che riesce ad anticiparmi, perché il caro e buon Enrico che abita al piano di sopra è uno che si sveglia presto la mattina, allora spesso e volentieri riesce ad anticiparmi già alle 6 del mattino, non trovo più i pacchi, i sacchi da mettere fuori, quindi beh, grazie, grazie anche ai miei collaboratori di condominio, va bene, grazie mille, anzi a coloro che abitano qui con noi. E invece andiamo avanti con un po' di musica e poi una piccola pausa e poi torniamo dopo, perché dopo ci facciamo una bella telefonata, andiamo a svegliare il Gianni Bianchi, eh sì, il Gianni Bianchi, quello della Cascina all'interno, lo tiriamo giù dal letto perché voglio sapere che cose si stanno inventando quelli di Cascina all'interno per questo 2024, quindi ci facciamo una telefonatina, speriamo sia sveglio, ecco questo sì, perché insomma magari ha fatto serata ieri, non lo so, poi lo vediamo, dai, analisa con euforia. Giovanotti, penso positivo qui alle 7.37 minuti e in tutto questo io mi sono dimenticato di chiamare Gianni Bianchi, che invece chiamo qui in diretta con voi perché sì, stavo cantando ragazzi, stavo, eri a cantà, quindi sentiamo, sentiamo se ci risponde, eccolo, Gianni buongiorno, benvenuto su Cristal Radio, benvenuto a Good Morning Milano, come stai? Non c'è male, non c'è male. Bene, 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 già sveglio così presto, bene, siamo contenti, insomma il bosco si sveglia, il bosco si sveglia presto e anche gli animali del bosco si svegliano, tra cui Gianni Bianchi. Tu ormai sei parte integrante dell'ambiente della Cascina all'interno, del Parco delle Cave, quindi ti svegli come la natura, stai germogliando in questo momento. Mi risveglio col canto dei galletti, l'immagine bucolica. Bellissimo, tu come un bucaneve che esci fuori dalla brina della mattina. Allora Gianni, quanta poesia così. Oggi ricorre il giorno della scomparsa di Fabrizio De Andrè, quindi insomma cerchiamo di essere un po' poetici anche noi, cerchiamo un po' di poesia e la poesia la si trova anche e soprattutto nella natura, nella bellezza della natura che a Milano c'è, ce n'è tanta e uno di questi luoghi è il Parco delle Cave con la bellissima Cascina all'interno che fa da porta, voi siete una porta verso la bellezza, siete la bellezza e una porta verso la bellezza. Ma insomma Gianni, un 2024 che sicuramente sarà contraddistinto da migliaia di eventi e di attività alla Cascina all'interno, giusto? Non tentare, non tentare. Ne avremo sicuramente parecchi perché il nostro progetto è quello. Il nostro progetto è, come ben sai, la divulgazione della conoscenza e la divulgazione della conoscenza la fai attraverso eventi, la fai attraverso iniziative stimolanti, originali, in maniera tale da stimolare la curiosità da parte della cittadinanza. E diciamo che funziona. A conti fatti già partecipa in modo. L'avete stimolata molto bene la cittadinanza perché sappiamo ormai quanto è importante per i cittadini proprio venire a vivere un'esperienza alla Cascina all'interno perché poi davvero ogni volta che si viene, qualsiasi attività voi facciate è una vera e propria esperienza quella di venire lì, no? Io so che tu hai diagnosticato una malattia che prende tutti quelli che vengono lì, giusto? Eh sì, la famosa l'internite, come ben sai, è una malattia, mi piace dire, scherzare un attimo, è proprio inguaribile, ma non si vuole guarire, ecco. Eh no, no, no. È una malattia che ti prende ed è quasi a contagio immediato. Non si può e non si vuole perché poi appunto quando sei lì... E va, bravo, bravo. Mi piace proprio. Mi piace proprio così, quando hai la possibilità di offrire a questo mondo travagliato un paio d'ore di serenità senza problemi, senza costi, chiediamo solo una piccola offerta quando la gente viene qua da noi, ma può passare mezza giornata, qualche ora in serenità, in tranquillità e penso che sia veramente questo il segreto, se possiamo così definirlo, della preferenza che la cittadinanza ci assegna. insomma, ecco, qui non chiediamo un biglietto d'ingresso, non siamo oppressivi, mettiamo a disposizione ciò che c'è spiegando, facendo capire la bellezza di ciò che c'è. E infatti, parlando di bellezza, facci un po' sognare, com'è questa mattina il risveglio in quel di Cascina all'interno, com'è guardare… Freddino, 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 comunque niente, adesso c'è ancora buio come vediamo, però fra poco, ma forse il tempo è un po' nuvolo, non si vede, ma ti posso dire che quando comincia a arrivare la luce da est, diciamo, l'altra città pian pianino si illumina tutto, è sempre bello, è sempre bello. Apri le finestre, io ho la fortuna di essere nato e di viverci, insomma, è bello. È bello e questa bellezza cerchiamo di condividerla con tanta gente. Gianni, non me ne voglia chi abita a Ponte Lambro, ma non ho chiamato uno che si sveglia a Ponte Lambro, ho chiamato te che ti svegli a Cascina all'interno stamattina, non me ne vogliate amici di Ponte Lambro, ma non ho chiamato neanche uno che si sveglia qui a San Siro, ho chiamato te perché appunto so che hai questa visione privilegiata su un pezzo di città, che ricordiamo è città, perché è inutile dire no, il parco delle cave, la Cascina all'interno, le Cascine in generale sono parte integrante di questa città, parte importante di questa città, che troppo spesso pensiamo a essere fatta solo invece di Gratacieli o di Beghe da pista ciclabile, mi verrebbe da dire, invece c'è tanto altro, giusto Gianni? Esatto, esatto, proprio così è parte integrante della città, anzi, consentimelo, è la vera Milano, Milano agricola, la Milano del Cascine, la Milano del cuore rurale, Milano ha sempre avuto un cuore agricolo molto potente e qui non è che sopravvive, qui vive, non sopravvive. Beh, salutiamo anche Mauro Vecca, no, giusto? Salutiamo anche il Vecca, che è colui che poi fa andare i manni, no? Il Vecca con la sua fattoria didattica a Pepe, proprio sta dando vita a un progetto straordinario, con tanti bambini che vengono qui in Cascina tutte le mattine e passano la loro giornata all'aria aperta, è un asilo rurale, un agri asilo straordinario, pensa che mi dicono i genitori che i bambini li svegliano la mattina, svegliano i genitori dai dai che devo andare all'assilo, devo andare all'interno, insomma, è questa la cosa più bella che possa esistere, per noi che abbiamo, per noi diciamo nativi di questo luogo che l'abbiamo visto decadere, soprattutto nel secondo dopoguerra, insomma, quando ero ragazzo io, in poi qui sta accadendo tutto, poi siamo riusciti, grazie all'aiuto di tantissime persone, a riportarlo in vita e vederlo pieno di bambini è la cosa più bella di questo mondo, questi bambini torneranno qua anche fra 5, 10, 15, 20 anni, torneranno qua un giorno con i loro figli, insomma. Diciamola tutta Gianni, sono i cuccioli dell'all'interno, finalmente dall'interno fai i cuccioli. Sì, è l'operazione futuro, questo luogo è proiettato al futuro, sembra un controsenso, una piscina antichissima proiettata al futuro, ma così è, qui non c'è niente di museo musealizzato o così, qua c'è vita. Gianni, ce la voglio di guardare al passato, quello che è stato per imparare meglio a fare il futuro, per imparare meglio a vivere il futuro. Gianni, grazie mille, davvero, io ti ringrazio tantissimo a questo punto. Comunque, ma ne approfitto per invitare i tuoi ascoltatori, il domenica 21, il 12 gennaio, ci sarà il falò senza falò, come ben sai, da qualche anno non si può più accendere la catasta tradizionale, catasta di legna, per motivi di inquinamento e abbiamo sperimentato scorso anno una nuova formula con la piramide di luce, è una piramide alta qualche metro, con tanti gancetti, su questi gancetti vengono poste delle lanterne che trasportano i bambini, quindi ci sarà questa cerimonia tradizionale all'interno del cortile con la benedizione degli animali domestici, animazione per bambini e altre cose. E poi partirà questa sorta di processione verso il prato del falò, avremo come gradito Sant'Antonio, il nostro comune amico Simone, Simone Lunghi, che l'anno scorso si è calato nel personaggio in un modo incredibile, poi abbiamo anche Roberto Muiraghi e avremo forse anche, spero, me l'ha promesso, la presenza sempre del nostro grande amico Cherchi, e quindi sarà anche un momento per trovare anche persone a cui tengo... Bello, 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 allora il 21 quando è? Il 21? Sì, arriveremo al prato del falò e lì ci sarà la danza per il risveglio della primavera, nel senso che i bambini faranno rumore, si scateneranno, ma non in una danza, libereranno l'energia che hanno in loro per dire alla natura svegliati che abbiamo voglia di sole, abbiamo voglia di primavera. E poi tutto logicamente con un ristoro fantastico. Vabbè sì Gianni, come facevi a convincere se no Andrea Cherchi a venire se non gli fai ristoro? Dolce Vimbrulè a volontà, animazione per bambini, insomma un pomeriggio anche questo in serenità, a contatto con la natura. Ci sentiamo, ci sentiamo prima del 21 per ricordarlo, non ti preoccupare, ci sentiamo. Sì, sì, dai, ci tengo tanto anche a vederti che un po' che non ci si vede. Gianni, ci vediamo presto allora, grazie mille, ricordiamolo il 21 gennaio, il falò senza falò, va bene, ma ci sentiremo prima del 21 per ricordare anche questa bellissima iniziativa. Grazie mille a Gianni Bianchi, grazie mille alla cascina. L'interno è adesso Elodie con Affari Spenti. Elodie Affari Spenti, la sua gamba dondola e invece dondola un po' anche un cappio, mi verrebbe da dire, sul film di Ficarra e Picone, perché sì, è notizia di questi giorni che a Cugiono, qui in provincia di Milano, qui nella città metropolitana, per andare verso il Ticino, cosa succede? Il parroco ha censurato il nuovo film di Ficarra e Picone, il film si chiama Santo Cielo e i giornali ci marciano sopra perché dicono nel mondo cattolico molte polemiche per Santo Cielo adesso, non credo che tutto il mondo cattolico sia lì a guardare, a parlare del film di Ficarra e Picone. Comunque, la cosa che mi fa ridere è che appunto il prete di Cugiono, in quanto anche proprietario del cinema parrocchiale di Cugiono, ha detto no, la trama offende la sensibilità di noi credenti e quello che mi fa ridere un po' è che potrebbe anche essere, ma scusa ma fallo vedere e poi discutile, fai un bel cineforum dove diciamo quello schifo di film ve l'abbiamo fatto vedere per farvi vedere che schifo c'è in giro, non so come dire, intanto comunque la gente ci viene a vedere Ficarra e Picone e magari puoi anche un po' educarla se vuoi, poi dico non l'ho visto e quindi non so bene che cosa dici, non l'ho visto, poi guarderò il trailer, guarderò le cose e mi farò la mia idea, ma nonostante la mia idea che posso avere, ma chi se ne frega, cioè fallo vedere, lo racconti, lo fai vedere, tutti vanno lì, ne parlano e poi mi piace o non mi piace. Poi hanno detto, la verità è questa caro parroco di Cugiono, è che in questo caso facendo così hai fatto una pubblicità pazzesca al film che tu volevi che la gente non vedesse e quindi niente, inizialmente appunto era programmato per il 13-14 gennaio e invece niente è stato tolto perché lo staff della sala della comunità, dice su Facebook appunto il parroco, su segnalazioni arrivate al parroco e da lui condivise si è adoperato, seppure non condivente talmente le valutazioni, ma in ottica di reciproca collaborazione rispetto dei ruoli ad annullare la proiezione del film Santo Cielo di Ficare Piccone, quindi insomma dice non è proprio un'idea mia, cioè la comunità ha detto che non è, ma insomma adesso diciamo, ma è un film, cioè dopodiché le parrocchie sono le stesse che più di una volta ho visto fare nei corsi di teatro, nei corsi di musical o così, Jesus Christ Superstar, che è a tratti quasi blasfemo come concetto di, cioè bellissimo, è il mio musical preferito, però diciamo, però forse col fatto che si canta in inglese non lo capisco più di tanto, non lo so che dire, però voi avete mai visto il film di Jesus Christ Superstar, cioè è qualcosa di pazzesco, cioè il ruolo della Maddalena, Giuda, Giuda che dice a Gesù che insomma sta tradendo la vera natura di quello che doveva essere e il traditore quindi sembra essere Gesù e non Giuda, cioè insomma è pesante come messaggio, bellissimo come musical. Quello viene si affatto tranquillamente nelle sale parrocchiali di molte parrocchie, l'ho visto veramente in tantissime tantissime parrocchie e invece non viene proiettato il film di Ficarra e Piccone. Vabbè, this is Italy, this is Milan, questo è il divertimento anche che a volte ci facciamo con le cose assurde che succedono nel nostro territorio, magari mandiamogli un DVD di Jesus Christ Superstar al parroco di Cugiono. Un saluto agli amici di Cugiono, andiamo avanti con un po' di musica, Purple Disco Machine, Duke Dumont, Nothing By The Thieves. Sognando la California, Dick Dick, io invece tutti i giovedì sogno il teatro ma soprattutto sogno lei, la nostra traghettatrice, la nostra caronte del teatro. Ti piace? Diciamo che fai degli incubi. No, 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 Tamis, tu sei il sogno di tutti noi. Tamara Malleo, buongiorno. Buongiorno Fabio, buongiorno, bentrovate e bentrovati agli ascoltatori e ascoltatrici di Christa Radio e di Good Morning Milano. Allora, teatro. Dove ci porti oggi? Dove ci porti oggi? Teatro. Allora, oggi ho scelto tre teatri molto diversi e tre teatri. È difficile, è difficile, non fanno dire a me, io non te lo dico neanche è morto. Per me sono sei teatri. Molto lontani tra loro, così occupiamo tutta la città. Allora, partiamo, anche perché devo dirti che questo gennaio si propone tantissimi spettacoli e tantissime proposte, nel senso che sono storie molto diverse. Partiamo da una storia che mi ha molto, diciamo così, coinvolto, che è la storia che propone Umberto Petranca, che è un attore che spesso è presente negli spettacoli della Compagnia dell'Elfo e che in questo caso porta uno spettacolo suo che ha scritto lui e che interpreta lui con la regia di Chiara Callegari. Ed è uno spettacolo che si chiama Io mi fermo qui. Ed è uno spettacolo che racconta è un viaggio che lui ha fatto a piedi, non attraverso le strade che si possono percorrere a piedi, perché sapete che in tutta Italia ci sono dei percorsi che si possono fare a piedi, un po' come il Cammino di Santiago, ma in Italia. La Via Francigena, c'è la Greenway del Molise, mi sembra che passa da costo costo. In regioni d'Italia, sì, ce ne sono varie. Invece lui, camminando, ha fatto un percorso però fuori dalla traccia già percorsa, in questo viaggio ha incontrato una serie di persone con cui ha intrecciato appunto delle conversazioni raccogliendo delle storie. E queste storie adesso fanno parte di questo spettacolo. Lui ha iniziato questo viaggio per un motivo particolare che scoprirete se andrete a teatro, però in questo viaggio ha scoperto che entrare a contatto con persone che non conosci a volte ti permette di scoprire qualcosa di profondo dentro di te, perché a volte conoscendo le persone tu sai come difenderti e come non toccare delle parti di te, invece le persone che non conosci ti fanno con il loro modo diretto di entrare dentro la tua vita ti fanno toccare dei punti molto delicati. Quindi questo percorso che lui ha fatto da solo, questo cammino, adesso lo condivide con gli spettatori e le spettatrici e condivide le storie che ha trovato attraverso Chiara Callegari che l'ha aiutato in questa trasposizione teatrale. Quindi io mi fermo qua, sarà già in scena praticamente perché ha debuttato martedì, sarà in scena fino al 28 gennaio, quindi c'è tutto il tempo per andarlo a vedere, per condividere questo viaggio con lui, al teatro il Fupuccini, quindi Metropolitana Rossa, fermata Lima o fermata a Porta Venezia, un corso Buenos Aires, quindi... Sì, potete anche scendere all'oretto con la verde e farvi un pezzo a piedi che è carino, dai. Anche, anche, anche perché molto spesso lo spettacolo è alle 19.30, un orario accessibilissimo. Infatti. Poi invece ci spostiamo al Pim Hof, che è uno spazio che propone spettacoli di drammaturgia contemporanea spesso, o comunque spettacoli anche molto di danza, che si trova in via, ve lo dico subito, perché non mi ricordo mai la via, però ve lo dico subito, comunque via Selvanesco, via Selvanesco 75, Metropolitana a Via Tegrasso, quindi via verde, quindi ci stiamo spostando, diciamo così, in un'altra parte della città, c'è Oscar de Suma. Oscar de Suma è un artista bravissimo, che è un attore sia, diciamo così, scritturato, che quindi fa parte, ha lavorato con tantissimi registi, registe del nostro teatro italiano, ma fa molti lavori suoi, personali. E lui porta avanti una, negli ultimi anni ha portato avanti una trilogia, si chiama Trilogia della Provincia, perché lui arriva da Brindisi, come città originaria, adesso lui vive da tanti anni a Bologna. Questo spettacolo che porta il terzo capitolo, La sorella di Gesù Cristo, ed è una storia molto forte, molto legata a storie contemporanea, diciamo così, a storie che ci riguardano direttamente nella cronaca contemporanea, perché una ragazza prende in mano una pistola e attraversa tutto il paese per andare a sparare il ragazzo che la sera prima, il venerdì santo, l'ha costretto a subire una violenza. Lui racconta la storia di questa ragazza che attraversa il paese con questa pistola e racconta di come lei, esponendo il suo corpo, costringe tutto il paese a schierarsi con lei o contro di lei. Quindi in qualche modo ci racconta come il corpo femminile deve comunque essere esposto per poter raccontare la propria storia e per poter avere giustizia. In questo caso racconta anche come schierarsi sia un atto politico e quindi un atto dovuto per poter raccontare una storia. È un atto anche in qualche modo di violenza su se stessi, perché non dovrebbe essere così. Io non dovrei esporre il mio corpo per poter avere difesa, dovrei essere difesa in quanto tale perché ho subito una violenza. E quindi c'è un racconto molto profondo che lui fa su il corpo della donna fatto da un uomo, ma anche come tutta la società intorno si espone su questo tema. Quindi iniziamo la mattina come vedi con te mi sempre molto entriente. Io ti ringrazio per questa assenuazione perché è davvero molto molto intensa, sentita vedo anche da parte tua, è molto sentita e molto però importante da esporre. Quindi grazie. Secondo me Oscar de Summa è comunque un autore da seguire. Pim Off, giusto? Pim Off. Pim Off. Zona Abbiategrasso. Abbiategrasso, ma comunque hanno un parcheggio diciamo privato che possono utilizzare, quindi ci si può arrivare anche in macchina. Brava Tamara, perché si vola alto, poi però le miserie della nostra vita sono trovare parcheggio a Milano. Ma è vero. Giusto, giusto, giusto. Mi piace dirlo. Giustissimo. Abbiamo un teatro ma anche di parcheggio. Infatti, infatti. Dai, poi ultima segnalazione invece. Teatro della Cooperativa. Ok. Lo conosciamo bene, riguarda. Esatto. Odio gli indifferenti sarà in scena dal 12 al 21 gennaio. Che paese saremmo se si rispettasse la Costituzione? Ce lo raccontano Giulio Cavalli con Luigi De Magistris, regia di Giulio Cavalli e Renato Sarti che è il direttore del Teatro della Cooperativa. È una produzione del Teatro della Cooperativa ed è una riflessione sulla Costituzione. Si racconta di come se fossero rispettati tutti i principi della Costituzione italiana forse vivremmo una vita diversa, una vita quotidiana diversa. Quindi tutti i cittadini avrebbero una relazione diversa con lo Stato, con il proprio lavoro, con la propria situazione sociale, economica e tutte e probabilmente molti privilegi che sono stati, insomma, che ci sono e che riguardano solo alcune classi sociali probabilmente sarebbero azzerati se fossero rispettati alcuni principi della Costituzione e un altro sistema sociale, politico ed economico inizierebbe. Quindi si parla sempre in senso molto ideale, però comunque si fanno delle riflessioni importanti. Il Teatro della Cooperativa in questo stimola e sviluppa degli spettacoli, produce degli spettacoli che possano in qualche modo portare avanti delle riflessioni, perché comunque il teatro è anche questo, portare delle riflessioni e interrogarsi su quello che accade. Poi le risposte non ce le danno, non possiamo averle in maniera certa, però. Teatro della Cooperativa, bastatevi la battuta, un teatro in cui potete tranquillamente urlare Viva l'Italia antifascista senza problemi. Si può fare senza problemi in quel teatro, no? Anzi, posso dirla? Potete farlo in tutti i teatri senza problemi. Comunque, va bene. Tamara, dai, grazie mille davvero per le tue esigenazioni. Ricordiamo dove ti possiamo incontrare, o meglio rivedere, riascoltare e approfondire tutte le tue conoscenze. Grazie, Fabio. Al venerdì su Milanao, canale 191, dalle 16.30 alle 18 e lunedì su Antenna3, canale 11 del Digitale, dalle 23.30. Grazie mille, Tamara. Allora, buona giornata, a presto e buon teatro, che come dici te, facciamo diventare il teatro, un'abitudine. Ci vediamo a teatro. Ci vediamo a teatro, grazie mille Tamara. Buona giornata. Andiamo con la musica di Diodato, con L'uomo, L'uomo dietro il campione, qui alle 8 e 17 minuti su Crystal Radio. Qui è Good Morning Milano. A dopo. Diodato, L'uomo dietro il campione, qui alle 8 e 21 minuti su Crystal Radio. Allora, dobbiamo parlare di notizie e poi comunque abbiamo anche Alessandra Custerman che si sta collegando con noi, che avremo fra pochi minuti al nostro microfoni per parlare di un bellissimo progetto, il progetto della Cascina Rinascita, appunto, che vede la nascita di un polo importantissimo in quella della Cascina Carpana a Corvetto, un luogo appunto immerso nella natura dove nascono con la collaborazione di due centri antiviolenza del terzo settore. Questa Cascina, appunto, che avrà organizzazione, appunto, dell'attività di formazione produttive, poi offerte da Cascina, ci saranno poi i tè perpi, insomma, ne parliamo poi bene con Alessandra Custerman fra pochissimi minuti qua su Crystal Radio, qua su Good Morning Milano. Prima di andare in pausa dobbiamo però dare una notizia brutta che è successa, appunto, in questa sera, la scorsa notte. Appunto, è morto un ennesimo ciclista sulle strade della nostra città e ieri sera, infatti, ieri sera hanno detto basta per l'ennesima volta. Basta morti in strada, centinaia al presidio dopo la prima vittima in bici del 2024. Un appello al sindaco Sala, città a 30 all'ora, subito, questo viene chiesto da coloro che ieri sera sono scesi in tanti, appunto, in piazza per dire basta a queste morti, morti nelle strade che poi, attenzione, qui sempre si dice, eh beh, però anche i ciclisti, eh però anche... è vero, è vero, ci sono tanti ciclisti che non sanno girare la città, questo è benissimo, è verissimo, ma la verità è che quando però teni dentro un ciclista, anche se non sa girare in città, quello a rimetterci è lui e non siamo noi nelle nostre macchine, quindi attenzione anche a questo, nel senso, ci sarà il ciclista che non è così bravo ad andare in bicicletta, è vero, va bene, ma noi dobbiamo stare attenti a quello che facciamo anche proprio per rispettare la vita magari di colui che non è bravissimo ad andare in bicicletta e quindi è importante che tutti quanti si collabori in questa direzione e attenzione, anche la città a 30 all'ora che sembra un'aneresia, io sono il primo a dire che fa ridere vedere su Via Novara il bollone per terra con scritto 30 all'ora su una strada dove si va a 70 anche di più all'ora, dobbiamo rivedere la città però, nelle strade normali della nostra città, non andiamo neanche a 20 km all'ora, quindi qual è il problema di mettere un limite a 30 all'ora e soprattutto un dato su tutti mi ha fatto riflettere e anche cambiare idea sull'idea della città a 30 all'ora, prendere un bambino in bicicletta a 50 all'ora è un momento tragico e con il rischio altissimo di provocare la morte di questo bambino, a 30 all'ora è molto 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 più difficile e quindi possiamo andare più lenti? Sì, ma vi ricordo anche questo, non andremo poi così lenti, nel senso che siamo già lenti nella nostra città e quindi lasciate quella meledetta macchina nel vostro garage e prendete i mezzi pubblici, prendete le biciclette, più biciclette ci saranno nella nostra città, più sarà sicuro girare in biciclette nella nostra città, più potremo fare le piste ciclabili fatte meglio, ci sono le piste ciclabili fatte male, una marea ce ne sono, andiamo di più in bicicletta e chiediamo di farle meglio e verranno fatte meglio perché la gente le utilizzerà, insomma siamo sempre noi a dover fare la scelta e anche questo è fare politica, anche questo è essere cittadinanza attiva, anche questo è creare e costruire una ottima e bella città come possiamo e dobbiamo sperare che diventi la nostra Milano. Andiamo avanti con la musica, con la pesce di Martino, sesso e architettura. 8 e 33 minuti, bentornati a Good Morning Milano, bentornati a Crystal Radio, la musica di Crystal Radio, vi ricordiamo anche il nostro numero di Whatsapp 3317853555, grazie a coloro che ci stanno scrivendo in questo istante, grazie per il buongiorno da Marco e da Lucia, grazie mille ad entrambi, buongiorno anche a voi e buon lavoro. Abbiamo un nostro ospite in collegamento, lo sentite anche dal tappetino musicale, è quello dell'ospite, quindi abbiamo con noi Alessandra Custerman, buongiorno Custerman. Buongiorno. Ben trovata, ben trovata. Allora, oggi è una giornata delle cascine, abbiamo parlato prima di cascine all'interno, adesso parliamo di un'altra cascina, di tutt'altro tenore, di tutt'altra progettualità parliamo, però è interessante vedere come le cascine, che sono un pezzo fondamentale di Milano, perché sono ovviamente le fondamenta della nostra città, ritornano protagoniste con vari progetti. In questo caso parliamo di cascina rinascita. Custerman, come possiamo spiegarlo cascina rinascita a chi magari è stato distratto in questo momento e non sa di cosa stiamo parlando? Pochi, secondo me, perché è veramente un progetto così importante che lo sanno tutti. Allora, cascina rinascita è un progetto di 200 antiviolenza di Milano, SVS, Donna aiuto donna, di cui sono presidente io, e Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano, Cadmi, di cui è presidente Emanuele Olivi e con tutte le persone che lavorano con noi, molte volontarie, alcune anche assunte, per cui non siamo solamente centro antiviolenza, ma favoriamo anche il lavoro delle donne. Abbiamo pensato di trovare in questa cascina il luogo dove consentire alle donne che hanno deciso di uscire da una vita di violenza da parte del partner, un luogo appunto per costruirsi una vita libera dalla violenza, ecco perché rinascita, nascere di nuovo. Quindi è un luogo bello, immerso tra due parchi della città di Milano, il parco della Vettabia e il parco Porto di Mare, che era un tempo noto come il boschetto della droga di Rogoredo, rimesso a posto da Italia Nostra in modo magnifico. Questa cascina è molto grande, sono 2.600 metri quadri coperti e 30.000 di parco e insieme all'associazione sportiva Campacavallo, che attualmente è localizzata al parco Trenno, abbiamo pensato a un progetto che includa 90 donne in uscita dalla violenza che hanno bisogno di trovare un lavoro, di riciclarsi nel mondo del lavoro dopo anni di disoccupazione. Tenete presente che il 64% delle donne che subiscono violenze in ambito familiare è disoccupata, ma è disoccupata non per libera scelta, ma perché molto spesso questo fa parte della situazione di maltrattamento che riceve all'interno della famiglia. Una cosa è scegliere personalmente di non andare a lavorare perché si hanno avuto dei figli e un'altra è essere indotta, manipolata fino al punto di lasciare il lavoro al momento della nascita dei figli dal proprio partner. È chiaro che è ancora più difficile per donne che hanno figli, magari ancora molto piccoli, riuscire a riciclarsi nel mondo del lavoro, dico riciclarsi perché alcune di loro magari avevano già avuto un lavoro come impiegate, magari avevano raggiunto anche un diploma importante a scuola, ma a questo punto sono fuori dal mondo del lavoro da 10-15 anni e diventa molto difficile riuscire a farlo assumere. Per cui da un lato noi lavoreremo con loro come già facciamo nei scienzi antiviolenza dando aiuti psicologici se necessari, aiuti sociali, educatrici per aiutarle a salvare i bambini dalla violenza a cui hanno assistito dal padre e dall'altro invece creeremo all'interno di questa cascina varie opportunità lavorative. Abbiamo iniziato i lavori di restauro il 20 dicembre, è previsto che riusciamo a finirli in 13-14 mesi, quindi noi ci auguriamo di aprire questa prima parte della cascina alla città entro marzo-aprile del 2025 e abbiamo iniziato proprio con la parte di cascina molto bella, la villa padronale che affaccia su una corte lombarda storica protetta dalle belle arti e un altro edificio molto disastrato e lì costruiremo le residenze, appartamenti individuali per 10 donne con figli e per altre 4 donne senza figli. Assumeremo queste donne perché in contemporanea ristrutturiamo la parte della villa padronale che consentirà di costruire un ristorante e un bar bistro e insegnare alle donne a lavorare nell'ambito del food che a Milano è uno dei pochi lavori purtroppo che è richiesto, visto che non abbiamo più fabbriche. Siamo la città del food and beverage ormai. Infatti purtroppo sì, però va bene cerchiamo di sfruttare questa opportunità dando alle donne un lavoro di qualità. Nella cascina ci sarà un ristorante gestito da una chef stellata, ovviamente non avrà i prezzi di un ristorante stellato, ma avrà un cibo di alta qualità e nel bar bistro i prezzi saranno anche inferiori e questo consentirà a circa 18 donne di essere assunti per un anno all'interno di questa ristorazione e altre 18 donne contemporaneamente di prepararsi con tirocini e formazione per poi essere assunte. l'idea è dare lavoro ogni anno quando saremo a regime a 90 donne attraverso anche laboratori appunto. Prima ho sentito che ha citato la pet therapy, faremo un asilo diurno per cani. I cani sono a Milano una specie estremamente frequente da incontrare per strada con dog sitter non preparati, noi invece insegneremo alle donne ad addestrare i cani e a fare le dog sitter con più competenza professionale, anche questo è un mestiere possibile. E poi con gli artigiani volevo dire una cosa, faremo anche lavori che a Milano stanno scomprendo, lavori artigianali, quindi restauro di mobili, benisteria di design, sartoria d'alta moda, possibilmente sempre con l'intento di dare alle donne lavori di qualità e con una possibilità di occupazione poi che consenta uno stipendio per cui possano vivere sia le donne che i loro figli. Perfetto, questa ma la interrompo solo un attimo perché andiamo con un pezzo di Madame e poi torniamo ancora qui a parlare perché io voglio capire bene anche come si si può rendere conto magari come può fare una donna, so che è una domanda da 100 milioni di dollari, però quali sono i campani d'allarme per capire di non finire magari in certe situazioni o come si può anche aiutare tra donne magari per far capire all'amica, alla sorella, alla cugina che insomma magari non hai scelto di stare a casa appunto come diciamo prima dal lavoro ma ti ci sei ritrovata perché c'era un progetto dietro che tanto non ha preso in considerazione invece la tua vera aspirazione. Ne parliamo fa pochissimo, Noa Kusterman, sempre qui in diretta, grazie. Andiamo con Madame con Voce. Madame con Voce e la Voce che invece sentite qui con noi collegata è quella di Alessandra Kusterman appunto del progetto della cascina rinascita, Alessandra Kusterman insomma una vita dedicata però diciamo alle donne che subiscono violenze. Kusterman esagero a dire così? No, non esageri, non solo alle donne che subiscono violenza ma anche alle donne che decidono di scegliere di non essere madri. Ecco, che è un altro tema interessante soprattutto in questo periodo dove com'è che è la vostra massima aspirazione è quella di avere una figlia, no? Com'è che era? Va bene, io sono d'accordo che per alcune donne è un'aspirazione importante, io stessa ho due figli, nipoti, cioè questo cosa vuol dire? Però ho potuto fare la mia vita lo stesso senza essere condizionata a pensare che il benessere dei figli è l'unico bene supremo per le donne. Chiarissimo, parlavamo proprio anche, e anche questo rientra appunto un po' nel tema della domanda difficile che l'ho fatto prima della pausa, abbiamo parlato di donne che ad esempio subiscono, perché proprio violenza è violenza, cioè non sembra la violenza è una violenza fisica, cioè se volentieri è una violenza psicologica, altre volte è una violenza nell'isolare la persona, isolare la donna dal mondo esterno, non facendo andare a lavorare, tagliando i ponti con amiche, amici, a volte anche parenti, e ci sono però dei piccoli campanelli d'allarme che possono far capire questa cosa. Come possiamo capirlo e magari cosa possiamo fare se vediamo che qualcuno non se ne accorge? Non credo che possa andare a dirgli, gualla che non va bene, cioè come posso fare? Allora il problema è cogliere i campanelli d'allarme in anticipo, quindi prevenire che si instauri una coppia in cui il partner è un maltrattante. Allora ci sono dei campanelli d'allarme che noi che lavoriamo nei centri antiviolenza insegniamo alle donne a cogliere, ma soprattutto andiamo nelle scuole a parlarne ai ragazzi e alle ragazze. Vi cito i campanelli d'allarme e spero che ve li ricordiate. A volte è il ricatto dell'indifferenza, tu non fai quello che voglio io e io allora non ti telefono per una settimana, ti punisco, come se in una relazione amorosa ci potesse essere una punizione. Poi ci sono ricatti di altro tipo, se ti vesti in questo modo, se parli con gli amici, se frequenti una compagnia su cui io non sono d'accordo, io ti lascio. Poi c'è l'umiliazione, se è una scema non sei capace, se è una pessima madre, se è una pessima moglie non sai nemmeno far l'amore bene. Poi c'è la manipolazione, è vero che tu desideri stare con me tutti i santi giorni per 300 minuti al giorno di telefonate tra me e te, questo è il vero amore, l'unico amore che esiste. Poi c'è la gelosia, una gelosia morbosa, una gelosia che impedisce di vivere. Io dico sempre alle ragazze che non esiste una dose minima di gelosia accettabile, l'amore è fatto di comprensione, di fiducia reciproca, la gelosia è la dimostrazione che non c'è fiducia nell'altro. Poi c'è il controllo, il controllo ossessivo sui social della ragazza. Parlo di ragazze perché purtroppo la maggioranza dei rapporti maltrattanti a un uomo come autore, può succedere anche che sia una donna, ma è un evento veramente molto raro nella mia esperienza. Noi vediamo mille casi di donne l'anno, abbiamo fatto delle indagini per capire qual è la prevalenza della violenza in una coppia anche da parte di donne e purtroppo i dati sono sempre uguali, la maggioranza dei casi riguarda donne e ragazze. Poi c'è l'intrusione, l'intrusione dei social, appropriarsi delle password per esempio, questa è una cosa che succede molto più frequentemente in quanto noi pensiamo. Poi c'è l'isolamento a cui viene costretta questa ragazza e questa donna, quindi abbandona le amicizie, a volte addirittura come è successo in un caso recentemente in Sicilia, veniva costretta a entrare a scuola alla seconda ora così non si fermava a chiacchierare con i compagni fuori della scuola o fuori della classe. Scusa, una cosa però, se andava a scuola era giovanissimo, tra parentesi. Quindi 16 anni, infatti il giudice in questo caso a Trapani, che secondo me è una sentenza molto interessante, la madre ha denunciato per conto della figlia questo ragazzo per stalking, ma la ragazza continuava a dire io lo amo e il risultato è stato questo ragazzo, perché aveva nato comportamenti molto vessatori e molto umilianti per la ragazza e di isolamento, in questo caso è stato messo il braccialetto elettronico a lui in modo che non potesse avvicinarsi a più di 500 metri della ragazza e gli è stato impedito da un giudice di vederla, non era un amore malato, non era proprio amore quello che la ragazza aveva nei confronti della ragazza. Allora, io mi rendo conto che noi pensiamo sempre che autori delle violenze siano gli adulti, non è così semplice. Autori delle violenze, per esempio a Milano, le condanne riguardano nel 40% dei casi per stalking, per violenza domestica e per violenza sessuale giovani tra i 18 e i 35 anni. Quindi non c'è una generazione nuova che ci salverà dalla violenza, siamo noi che dobbiamo riuscire a entrare nelle scuole fin dalle scuole materne per insegnare ai bambini fin da piccoli la gentilezza e il rispetto dell'altro, la capacità di distinguere il fatto che una bambina non è da meno di un bambino, ma è semplicemente diversa, diversa come aspettative, diversa come aspirazioni, come modalità di porsi. Riuscire a salvare una generazione futura da riperpetuare la stessa violenza che hanno perpetuato gli uomini nei secoli, mi sembra molto importante. Detto questo, la maggioranza dei ragazzi e delle ragazze, per fortuna degli uomini e delle donne adulti, non hanno violenza nell'ambito dei loro rapporti affettivi, ma se vi accorgete che un rapporto affettivo sta diventando una relazione nociva per quella ragazza e siete amici di quella ragazza, parlatene e soprattutto imparate voi maschi a parlare agli altri uomini in senso di deprecazione di quello che fanno. Quindi è importante che anche nei bar si chiaccheri di violenza, ma non con battute stupide, ma dicendo in modo chiaro, noi siamo uomini che non accettiamo la violenza. È interessante, la chiacchiera da bar positiva mi sembra una cosa interessante su cui potremmo lavorare noi maschietti. Kusterman, io la ringrazio tantissimo, prima di salutarci, 20 secondi, ci ricordi le coordinate per seguire il progetto della Cascina Rinascita e come potrei anche magari dare una mano, aiutare, informarci bene. Allora, per riuscire a finire questo progetto che è veramente molto ambizioso, abbiamo bisogno dei soldi, per cui vi invito tutti il 19 marzo a venire all'Umanitaria, dove offriremo un aperitivo fatto da una poca stellata appunto e raccoglieremo fondi per la nostra Cascina. Potete andare sul sito www.svsdad.it o entrare direttamente nel progetto Cascina Rinascita e troverete la possibilità, se avete voglia e fare donazioni. Anche i 10 euro sono ben accolti, visto il numero di donne che seguiamo ogni anno tra i duecenti antiviolenza, che sono appunto più di 1200 l'anno. Chiarissimo, Kusterman, grazie mille davvero per il suo contributo, grazie mille soprattutto per averci fatto capire quei campani d'allarme che sono veramente importanti e ne faremo buon uso e li impareremo tutti quanti, sia noi maschietti che sia appunto coloro che ci ascoltano, le donne che ci stanno ascoltando, che magari possono aiutarsi anche tra di loro, che forse è importante anche quello, la famosa solidarietà femminile deve esserci anche in questi casi. Kusterman, grazie mille, complimenti per quello che state facendo e bocca al lupo per tutto. allora. Grazie a lei. Grazie mille, andiamo avanti con la musica, Sophie and the Giants, DNA insieme a Mercy.